E' stata presentata oggi a Palazzo San Giacomo l'European Cup di Judo 2023 Under 18, in programma al Palavesuvio ad ingresso gratuito sabato 11 e domenica 12 febbraio. L'evento, fortemente voluto dai fratelli Lello e Massimo Parlati della Nippon Club Ponticelli, si inserisce nel programma di eventi a sostegno della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Stiamo mantenendo la promessa che è quella di organizzare tutta una serie di iniziative attraverso l'appoggio delle federazioni, iniziative sportive naturalmente che sono tanti piccoli passi verso la nostra candidatura a Capitale Europea dello Sport 2026. Mi piace sottolineare che la nostra attenzione è rivolta a tutti quanti i tipi di sport, anche i cosiddetti sport olimpici o minori, perché lo scopo è non solo quello di provare a vincere questo titolo di Capitale Europea dello Sport 2026, ma anche e soprattutto quello di far conoscere, soprattutto ai nostri ragazzi, oltre che alla città, tutti i tipi di sport. La competizione internazionale vedrà la partecipazione di 32 nazioni in rappresentanza dei quattro continenti, circa 400 gli atleti in gara con la delegazione italiana che si conferma la più numerosa. Nutrita anche la squadra di arbitri provenienti da tutto il mondo, previste per l'occasione circa 2000 presenze sul territorio. Sono contento di questo evento che si fa qui a Napoli, anche perché è un'opportunità per tutti i giovani campani di alto livello, di cimentarsi senza andare in giro per il mondo, per il mondo come facciamo di solito, perché queste manifestazioni sono ospitate sempre da altre nazioni. Abbiamo la fortuna di averla qui a Napoli, quindi è un fatto veramente positivo ed eccezionale.